Ehi salve a tutti per ritrovati in questo nuovo appuntamento con GameZane Signori da quanto tempo non lo dicevo Sto facendo un esperimento Questo esperimento è provare con un nuovo programma di registrazione Ve l'ho spoilerato qualche live fa su Facebook e anche su Instagram Sto provando un nuovo programma di registrazione ovvero OBS Che io utilizzo per le live streaming sull'altro mio canale Che vi lascio ovviamente qui sotto in descrizione E vediamo come va Vediamo la qualità Vediamo il framerate Vediamo quanto tempo ci metto ad editare il video dopo averlo esportato in questa maniera Ragazzi non mi resta che invitarvi a vedere il continuo del video E finalmente Minecraft It Obiettivi è ancora qui Ah vero 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 Ho cambiato il nome Minecraft Italia Raga tranquilli sono le Airpods Sto provando queste cuffie nel frattempo Anche perché mettendomi le cuffie i capelli mi si dispano E stasera devo uscire Quindi tranquilli tranquilli Ragazzi 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 Quanto tempo è passato Ma quante cose sono cambiate dalla vostra assenza E anche dalla mia assenza Quante cose sono cambiate Il fatto che lagga un pochino E questo è cambiato pure Perché il programma di registrazione è molto più pesante di prima Ma mi aiuta un po' Allora ragazzi iniziamo facendovi vedere le novità che ci sono state Partiamo ovviamente da casa nostra Che ho addobbato all'interno con della Glowstone E ho fatto degli inserti con la Easton Bricks Perché non lo so mi piaceva Così mi piaceva Ma ragazzi la vera novità è qui sotto Perché ho allargato il magazzino Ho levato le porte perché così accedo molto più velocemente E ho un botto di materiali In questo periodo ho fatto scorta di tutto Soprattutto ragazzi 41 diamanti Cioè ho usato delle altre cose Quindi voi non l'avrete visto Ma ho già usato dei diamanti E delle cose che ho trovato Però 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 Abbiamo tutto il tempo per fare Ciò che di cui abbiamo bisogno Poi ragazzi allora Andiamo vi faccio vedere le novità Allora uscendo di qui E dove sono gli animali? C'erano tutti gli animali Ora vi faccio vedere dove l'ho messo Ho fatto un piccolo sentiero E ho messo le Redstone Lamp Con il Daylight Sensor Che praticamente accende le luci in automatico Quando è notte E niente ho fatto una stradina anche che va Verso questo lato Da questo lato non c'è praticamente nulla di nuovo La farm di alberi è qui Qui ho messo solamente Sempre qui la stradina E anche le due lampade E per il resto no Devo spostare sta cosa Perché non la voglio qui E qui ci sono le zucche Ok nel frattempo Tour del mondo Per chi fosse nuovo Eccetera eccetera Poi passando da questo lato Accanto alla casetta Ho messo il portale qui In modo tale che io Entro Ed esco Praticamente Senza accorgermi Cioè nel senso Non mi piaceva la sopra Dovevo salire qua Cioè dovevo fare così Ed entrare No invece in questo caso Io Boom Ed entro in automatico Perfetto Allora Le pecore Le mucche E i maiali E i polli E li ho spostati tutti qui Li ho spostati tutti qui Perché Non lo so Mi davano Impaccio Lì in mezzo Volevo fare proprio Una stradina pulita Ho levato tutti gli alberi Che c'erano Tutti quanti Ragazzi Tutti quanti E basta Queste sono le cose Che ho fatto In questo periodo Vi sembrerà poco Ma vi assicuro Che ci ho messo Parecchio tempo Non è stato facile Ecco Comunque Cosa facciamo Oggi Non lo so Manco da tanto tempo E Non lo so Non so Gli obiettivi Dei scorsi video Non li ho visti Quindi Allora io Adesso dovrei fare Una bellissima cosa Dovrei spostare Quella farm Di carne da zucchero E renderla Automatica E per renderla Automatica Ci serviranno Dei pistoni Ci servirà Spostarla Ovviamente Ma iniziamo Infatti Il processo Di spostamento Allora Intanto Devo andare a prendere Della terra Che mi servirà Ovviamente Per tappare i buchi Intanto guardo Che orego Faccio il calcolo Di quando Devo smettere Di registrare Anche perché Questo video Non potrà durare 88.000 ore Ma questo Era scontato Allora Mi servirà Della terra Per adesso Vi chiederete Perché ho tutte queste spade Nell'inventario Ma poi ovviamente Lo scoprirete In un prossimo video Semmai ovviamente Ci sarà ragazzi Perché Spoiler Potrebbe andare tutto male Questa registrazione Potreste non vederla Mai nella vita E quindi Non lo so Salterà tutto Allora Intanto Sdradichiamo Tutte queste cose Perché non ci servono Sdradica 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 Ovviamente Dovrò sostituire La sabbia Con la terra Ecco perché Ho portato la terra E levare l'acqua Che c'è lì All'interno Mettendo ovviamente La terra Normalmente Levando l'acqua Anche in quel punto Ok Levato Tolto tutto Mi serve La pala Che ho incantato Da poco Perché vi giuro Ragazzi Mi serviva troppo Ah Guarda quanta Ce n'è qua Sabbia Che potrebbe Servirmi Però Se distruggo così Mi sa che non va bene Troppo veloce Ok Allora il problema È che c'è L'acqua Quindi Dovrei tappare Prima l'acqua C'è un casino Aspetta Sto coso di sabbia Me lo prendo Sto cubetto di sabbia Qua Va bene Ok Ho difficoltà Ragazzi Sì Il problema Di non giocare Per tanto tempo E avere difficoltà Motorie Proprio a giocare A minecraft Che non Non possiamo farci niente Ok Allora Tappo così Ok Possiamo spaccare Anche questi materiali E i slab Di cobblestone Ci serviranno Comunque Sempre Vabbè ragazzi Facciamo una cosa Faccio un piccolo taglio E ci vediamo fra poco Per la mia felicità Comunque Non sta laggando Ed è una cosa bellissima Perché Ho cercato di settare Tutto Praticamente In giorni Prima di registrare Questo episodio Perché Volevo che tutto funzionasse E non ci credevo Cioè Non lo credevo possibile Cioè ok Quando esco da casa Un pochino lagga Però ragazzi Baffanculo Cioè Il problema è che Mentre io registro Il mio Mac Mille cose Quindi Purtroppo Devo bilanciare Entrambe le cose Quindi Devo anche lavorare Ma anche giocare Ovviamente Devo divertirmi Ma nel frattempo Fare anche le cose Che mi campano No? Giuro ragazzi Che se tutto ciò Viene bene E non parlo di questa farm Che sto per fare Di canne da zucchero Automatica Se tutto ciò viene bene La registrazione Si vede bene Carica bene Mi viene Molto facile Editare il video Vi giuro Ve lo giuro ragazzi Ve lo giuro Che riprenderò Ogni giorno A fare video Ma deve quadrare tutto E siccome ancora È tutto da vedere Perché io ancora sto registrando Voglio vedere appena finisce Se tutto è andato bene Il meglio Quindi Si vedrà dopo Voi lo vedrete Se questo video Sarà stato pubblicato Allora vuol dire Che sarà andato tutto bene Se questo video Non lo vedrete mai Io avrò sprecato tempo Ma spero Vivamente di no Allora Ho quasi finito Di riempire tutto Non ci basteranno mai Questi blocchi Forse sì No Non ci basteranno mai Oh mamma mia Finito 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 Allora Mentre ci siamo Io direi di collegare Di collegare il sentiero Da questo lato E farlo arrivare qui Nella struttura che abbiamo fatto Noi Ti levi torcia Grazie Non lo so Vorresti fare qualcos'altro Mi sa Qui non si può mettere Ah brutta roba Brutta roba Che lì non si può mettere Allora facciamo così E basta Ok sì C'è la deviazione Però Un po' di terra Qui la leviamo Perfetto Allora Come si fa Una farm Di Cane da zucchero automatica Abbiamo bisogno Dei pistoni Perché praticamente I pistoni Spingeranno Le canne da zucchero Una volta Cresciute tutte Tramite un pulsante Che riusciranno A Cadere E noi le potremmo Semplicemente raccogliere Allora Intanto mi serve Un crafting table Da portarmi Tipo in giro E il problema È che ho Un sacco di materiale Allora Aspettate un attimo Posso un attimo Un po' di robina E arrivo Ah cosa Cosa nuova Che non sapevo Cioè l'ho scoperta Tipo giocando E che adesso ci sono Le pepite di ferro Ovvero le nuggets Di ferro Cioè bellissimo ragazzi Allora Cosa ci serve per fare i pistoni Se non erro Redstone Mi sa che me ne servirà Un botto Poi mi serviranno Un po' di torce di redstone Non lo so ragazzi Vi giuro sto sparando Mi porta anche due blocchi Non si sanno mai Le cose della vita Poi mi servirà il ferro Per fare ovviamente I pistoni Il legno ce l'ho già E credo basta Allora ok Non mi ricordavo Come si facevano i pistoni Adesso l'ho visto E credo di aver capito Allora si facevano Così Allora intanto Aspettate un attimo Devo trasformare Tutto sto legno Metto il legno Qui sopra Ok Dovrebbe essere così Poi La redstone Qui E poi Tutto ferro No Mai nella vita Allora in realtà Ferro me ne serve Meno Di quanto Mi aspettavo Mi serve però La cobblestone Pistone 16 Non mi basteranno mai 16 pistoni Io ne voglio Un po' di più Quindi mi serve Un altro po' di cobblestone Vediamo Vabbè facciamo che li faccio E poi arrivo Ecco Ok ne ho fatti un po' troppi Forse ne ho fatti 42 Mi sa che Sono un po' troppi Ecco sono un po' troppi Allora forse mi servirà Vediamo se ce l'ho già Ce l'ho già Ce l'ho già Non ho un kaiser Forse mi servia un repeater Non credo di averne Come cacchio si faceva Allora ragazzi Dormiamo E intanto che dormiamo Vi dico Cosa e come dobbiamo fare Sperando che non ci siano mob Ce n'è uno là in fondo Che sta bruciando Speriamo che non ci sia nient'altro Ci sono alcuni che bruciano lì Stanno scendendo C'è un creeper là sopra Sperando che non mi uccidano Allora dove la facciamo questa farma Io direi Dove cacchio la facciamo La facciamo Chi è La facciamo La facciamo Non lo so Allora facciamo che La mettiamo qui Allora non serve tantissimo spazio Per fare questa farma Anche perché Serve solamente un blocco centrale Dove passare E poi Due blocchi laterali Dove appunto mettere Le canne da zucchero E altri due blocchi laterali Dove mettere i pistoni I pistoni Spingeranno il tutto E via Allora Praticamente Dovrebbe essere così Allora Deliniamo i nostri bordi Leviamo un attimo questo Vabbè c'ho il legno Non ho la cobblestone Ok va bene lo stesso Ma che cacchio Va bene ok Muori Sei morto? Non sei morto No no tu non sei morto Adesso si però No Ma che cacca No 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 Minchia l'avevo sentito Ho sentito Mi sono spostato in tempo Muorici Porca la Troia ci vuoi morire Oh cazzo c'è un altro Ma che cacca Va bene ma io Oh c'è un altro Va bene va Io non posso stare No guarda quanti Ma quanti mob ci sono Quanti mob ci sono Muori 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 Appena mi sfascia quel creeper La cosa di grano Io bestemmio Che neanche Dio lo sa come Via Cazzarola Via Via E vuoi morire Ok Non dovrebbe esserci più nessuno Spero Mamma mia Se la costruisco ed esplode Bum bu mio Allora ok Quindi stavo dicendo Dobbiamo Maglialino per cortesia Vuoi andare un po' più là Ok grazie Dobbiamo delineare i bordi Quindi la facciamo Di Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Direi quattordici Va bene abbiamo fatto un po' di pistoni in più Ma va bene lo stesso Allora Cosa dobbiamo fare Dobbiamo poggiare intanto Tutti i pistoni Qua sopra Ne ho fatti 42 così ne faremo praticamente 28 Poi dobbiamo lasciare Lo spazio qui dove ci saranno le canne da zucchero Quindi questo non verrà contato Lo spazio qui dove passeremo E lo spazio qui dove ci sarà la canna da zucchero E nuovamente qui dovranno esserci di nuovo I pistoni E non è difficile ragazzi C'è E' semplice da fare questo meccanismo Forse avrò bisogno anche di un repeater Ma E' semplice da fare Io ho piazzato un blocco Sì ed è scomparso Però va bene Ok quindi Piazziamoli sempre In questo verso Ok Ovviamente poi attorno dovremmo fare una piccola struttura Eccetera Anzi Vi faccio vedere poi come Dovrebbe venire Dobbiamo Mettere Intanto dei blocchi così Allora credo che sul retro così Non funzioni Forse da sopra sì Ma sul retro così no La redstone Non lo so Proviamo fra un po' Intanto Allora mettiamolo così Perfetto Poi Continuiamo anche da questo lato Noi dovremmo Collegare così Mettere dei repeater Che adesso andremo a fare E poi Avviare il tutto tramite Un bottone Che credo Venga messo da questo lato Non so ancora come lo metterò Questo bottone Potrebbe darsi Qui Intanto io metto la redstone Non arriverà mai l'impulso Perché ovviamente Ripeto Sono Ehm Ci vuole un repeater Per fare funzionare il tutto Però già così Il collegamento Si crea Successivamente Mettendo i repeater Che credo Due bastino Però io per sicurezza Me ne farò quattro Anzi me li vado subito a fare Sperando di non incontrare Dei creeper Ok sta anche Tramontando Fra un po' Quindi dobbiamo sbrigarci Anche perché non voglio di nuovo Tutti quei mob Incredibili Lì Devo mettere poi tutte le torce Qui in giro ragazzi Cioè le torce Le lampade Tipo quelle Perché Se no è un casino Allora Quindi I repeater I repeater I repeater Li abbiamo qui Il segnale Dovrebbe andare Se non erro Quanti blocchi Ok allora 15 blocchi Ah ok Non passa proprio il segnale Qui Quindi mi sa Che il segnale di redstone Noi lo dobbiamo mettere Sopra Ok messa la redstone Messi repeater Credo Di aver fatto La mia prima costruzione In redstone Da solo Credo e spero Vediamo se funge tutto Allora Si attiva il repeater Però non mi passa il segnale Forse perché Dovrei metterlo Da questo lato Ragazzi Vi giochi Non sono esperto Sì Ok Dovevo metterlo da questo Ah Deve seguire il verso Ah Ho capito Ecco Direi che così Va più che bene Sì La struttura è un po' Approssimativa Però ok Allora Faccio la stessa cosa Da questo lato Quindi io facendo così E così Vedrò le canne da zucchero Esplodere praticamente E buono Buono Ok Allora Facciamo una cosa Andiamo a fare un tentativo Anzi Le canne da zucchero Si possono mettere anche Nella terra Quindi Va bene così Allora Dobbiamo Intanto Mettere l'acqua Mettere l'acqua qui sotto Ti giuro Programma di registrazione Ho registrato tipo un'ora Se non Se non hai funzionato E quindi questo Questo episodio Non verrà caricato Ah Le bestemmie Le bestemmie Ragazzi non voglio bestemmiare Non voglio bestemmiare Non voglio bestemmiare Spawnato qualcuno? No perché vi ammazzo tutti Merde No ok Non ho fatto in tempo A spawnare nessuno Allora quindi Ovviamente Io la prova La faccio così A cavolo Ma poi la faremo in seguito Allora Quando cresceranno Le canne da zucchero Saranno Praticamente Così alte Giusto? Quindi noi stiamo facendo L'esempio Che le canne da zucchero Siano alte In quella maniera Giusto? Ok Poi le leviamo Perché io metto la sabbia Perché c'è una diceria Che dice che la sabbia Faccia crescere più velocemente Le canne da zucchero Ma non è comprovato Quindi ok Quindi facciamo questo tentativo Quindi allora Io Premo il bottone E le cose switchano E chiudendo Io le posso andare a prendere Ora l'unica cosa da sistemare È mettere degli slab qui Così da chiudere il tutto E ho degli slab Non ho degli slab Ma ho un crafting table E me li posso bellamente fare Io me li farei di legno Dato che la struttura È di legno E così Non mi servono Un miliardo di materiali Credo che 42 bastino Mi sa che ho terminato Ovviamente poi C'è la struttura La abbelliremo Cioè non è che La lascerò così Ragazzi Cioè farò Una struttura attorno Non lo so Ora vedremo Però l'importante È che funziona Che mi fa Sto giochetto qui Che io voglio Però ovviamente Dovrò sostituire il tutto Con la sabbia Ma lo farò ovviamente O con voi O off camera Io come al solito ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Per aver visto questo Primo Nuovo video Non lo so Io come al solito Vi invito a lasciare 100 mi piace Per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui con Mirko Per GameZain Ciao